Educazione sessuale e cura dei denti, profilassi igienica e sostegno psicologico contro il bullismo. Sono molti i progetti che l'ASL Salerno e il distretto sanitario di Sarno Pagani promuovono per andare incontro alle esigenze di salute a tutto tondo di bambini e adolescenti. La carta vincente vuole essere la collaborazione con le scuole. Per questo motivo i progetti elaborati sono stati presentati ai dirigenti di elementari media e superiore dei territori di competenza di Scafati e Pagani. L'educazione alla salute oggi è una cosa importantissima. È importante da sempre, sarebbe da mio opinione perseguirla oggi. Farla da sole per qualsiasi dell'agenzia del territorio sarebbe impossibile. L'importante è la sinergia tra le diverse istituzioni, il lavorare insieme per raggiungere un numero sempre più elevato della popolazione interessata agli interventi educativi. Si parla, lo dicevo prima, di sostenibilità delle cure del servizio sanitario. La sostenibilità si raggiunge solamente se si interviene in materia di cronicità e se si interviene in campo di prevenzione. Cerchiamo di integrare questi due aspetti in modo da collaborare insieme per sviluppare entrambe queste tematiche. Il nostro scopo è quello di, il nostro target soprattutto è rivolto agli studenti, agli studenti e agli scolari di tutte le scuole di ogni ordine e grado e spero che questo progetto abbia buon fine. Noi ce la metteremo tutte, la mission del nostro lavoro, del nostro distretto, noi ci crediamo.